Eccoci di nuovo col format a lavoro con e oggi ho il piacere di avere con me Massimiliano Geraci. Massimiliano, grazie innanzitutto. Grazie a te, Giorgio. Ci hai dato disponibilità per mostrarci un po' il processo che usi. Racconto brevemente chi sei e come ci siamo conosciuti e racconto brevemente anche il format, che lo ricordo non è un format preparato, è un format dove le persone che si occupano di fare nell'attività di digital marketing vengono a raccontarmi come lavorano e vengono a raccontarmi qualcosa diciamo di specifico e non preparato, nel senso che c'è una macro introduzione, però poi la bellezza di questo format è che scendiamo nel dettaglio mentre qualcuno lavora, io faccio domande e non è fatto in live, è registrato appunto perché mi piace molto concentrarmi proprio sul processo che mi viene presentato. Massimiliano l'ho conosciuto su connect.gt di cui Massimiliano ci dà un grande contributo da questo punto di vista, è moderatore, ma lui è cofondatore dell'agenzia Studio Makoto, si occupano di digital marketing con qualcosa di più legato al branding e Massimiliano nello specifico ed è secondo me un grande pregio, si occupa di quel ramo che si intende come content marketing ma la sua competenza è soprattutto tecnica e SEO e in questa roba che noi chiamiamo content marketing ci mette tutta una serie di cose molto interessanti che qui trattiamo spesso che sono tutto riferito all'ambito della semantic search quindi l'entità, i dati strutturati, il knowledge graph, hai pubblicato da poco un articolo proprio sulla, l'hai postato su connect, la nascita e il funzionamento del google knowledge graph insomma hai tutta una serie di visioni molto tecniche e fai tanta divulgazione quindi io ti chiedo innanzitutto, visto che oggi parliamo un po' di semantic publishing di robe un po' particolari, di farci una premessa, una introduzione a quello che è il tema e poi entriamo nel processo, io ti ascolto molto volentieri Perfetto, ti ringrazio di nuovo Giorgio e in effetti oggi andremo a parlare di entità e dati strutturati e di come le due cose e questi due concetti e queste due pratiche si combinano fra loro perché spesso nella trattazione divulgativa sembrano come due argomenti separati Ricordo che tu stesso in una, forse è stata l'ultima live di dicembre scorso hai commentato un articolo di Dixon Jones intitolato Entity SEO Quindi l'Entity SEO, la Semantic Search, la Semantic SEO sono termini che stanno sempre più acquistando rilevanza e sempre più vengono utilizzati anche nella comunicazione mainstream diretta a chi si occupa di SEO anche se non sempre gli corrisponde davvero quel cambiamento di paradigma che sarebbe auspicabile, che riguarda il passaggio essenzialmente dal concentrarsi sulle keyword, ossia stringhe di testo alle cosiddette entità Lo spartiacco è costituito da quel notissimo articolo che nel 2012 viene pubblicato sul blog ufficiale di Google annunciando la nascita del Google Knowledge Graph Massimiliano, ti do uno spoiler Sì Questo articolo, questo spartiacco che tu stai citando è proprio un passaggio fondamentale del libro che sto scrivendo intorno al momento Google che spero a breve di poter annunciare non so se annuncerò prima il libro o prima questa live se uscì questo format al lavoro con te ed è proprio un passaggio molto importante che vado a sottolineare di come abbia rappresentato quell'articolo del 2012 davvero uno switch culturale nell'ambito della ricerca assolutamente non solo della SEO perché è stato proprio un cambio in ambito proprio della ricerca Sì, concordo assolutamente effettivamente uno switch di paradigma il titolo stesso ce lo sottolinea e lo rimarca con forza ed è From Strings to Things quindi dalle stringhe alle cose ed esprime in effetti quella che sarebbe stata da allora e degli anni successivi la direzione che Google avrebbe impresso non solo al mondo della ricerca ma anche a se stessa in quanto azienda tecnologica che comincia a transitare verso l'adozione massiccia di tecnologie di tipo diverso che poi sostanzialmente il machine learning ma ci torniamo con un po' più di dettaglio cerchiamo di capirci intanto su cosa sono queste benedette things potremmo dire per semplificare un po' che sono sinonimo di entità l'entità in generale sono oggetti o concetti che possono essere identificati in modo univoco e quindi gli può essere attribuito un ID da parte di una macchina un ID univoco per l'appunto e sono persone, luoghi, cose, things appunto ma anche concetti, concetti astratti un altro modo per cercare di definire cos'è un'entità è metterla in relazione al termine topic in effetti Google utilizza nella sua comunicazione diretta a un pubblico più ampio proprio il termine topic lasciando il termine entità piuttosto alle comunicazioni di tipo tecnico che si tratti quindi di brevetti che si tratti di white paper di articoli accademici topic però non è esattamente coincidente con entità di fatto dal punto di vista del suo significato è decisamente più ampio cioè ogni topic si esaurisce o è costituito da entità diverse dalle loro proprietà che ricordiamo lo possono essere entità a loro volta e dalle loro relazioni quindi di fatto sono le entità sono una pluralità di entità che definiscono i topic e l'entità di fatto diventa qualsiasi concetto o oggetto appartenente al mondo appartenente al mondo o a uno dei mondi possibili perché non dimentichiamo che un concetto un concetto caro alla linguistica e anche alla semiotica è quello di mondo possibile nel senso che anche i mondi di fantasia quindi non dobbiamo confondere le entità strettamente con quello che appartiene alla realtà alla realtà che ci circonda quello che vi farò vedere adesso che ti mostro che mostro in particolare a te Giorgio è proprio un processo di semantic publishing semantic publishing è una tipologia di attività di pubblicazione in cui si aggiunge un layer cioè uno strato di contenuti semantici che servono a essere compresi in modo immediato dalle macchine intendendo per macchine i motori di ricerca gli assistenti vocali e ogni altro agente intelligente in giro per la rete semantico quindi è tutto ciò che non è immediatamente visibile nella pagina cioè stampato su di essa sul front end anche se un minimo di semanticità ce la dà già la struttura dell'headline per esempio la suddivisione in paragrafi ma questo strato semantico per l'appunto è di fatto ottenuto ricorrendo ai dati strutturati dati strutturati che possono essere espressi attraverso vocabolari differenti e nell'ambito del web si è trovato un accordo fra i principali motori di ricerca si è creato il consorzio schema.org e si è deciso appunto che fosse schema o schema markup il nostro vocabolario per esprimere i dati strutturati i dati strutturati permettono perciò di modellare una pagina e specificarne i contenuti rendendolo immediatamente accessibile a una macchina in quanto letti ancora prima rispetto rispetto ai contenuti stessi questo perché dal punto di vista tecnico sappiamo che i dati strutturati vengono posizionati nell'header della pagina e quindi vengono letti prima che l'html si è realizzato sulla pagina stessa i motori i vecchi motori di ricerca lessicale si basavano di fatto sul matching fra string ossia le keyword le varianti di keyword avevamo bisogno di ottimizzare ogni pagina per una keyword e google non era in grado di riconoscere né le forme flesse plurale singolare maschile femminile negli aggettivi né tantomeno sinonimi e contrari ecco una minbird che cominciamo ad avere da parte di google una capacità di ai tempi scarsa ancora comprensione linguistica quindi un motore di ricerca lessicale si basa sul matching un motore di ricerca semantico si basa invece su algoritmi di natural language understanding spesso abbiamo sentito parlare di natural language processing che è la branca più ampia nell'ambito delle applicazioni di intelligenza artificiale riferita appunto al processamento del linguaggio e si divide in una serie di sottotipi fondamentalmente il natural language understanding che è quello che riguarda i motori di ricerca e poi anche il natural language generation per esempio che riguarda tanti tool per la scrittura assistita o ancora il question answering la classificazione insomma tutte quelle che sono le attività più comuni che svolge un algoritmo di natural language processing scrivere per un motore di ricerca semantico che cosa significa darò giusto alcune coordinate di tipo generale perché il discorso sarebbe molto lungo e meriterebbe davvero quasi quasi un corso a sé per spiegare come tradurre in pratica queste evoluzioni tecnologiche che permettono a Google una maggiore comprensione delle parole non più intese come stringhe ma messe in relazione fra loro e anche per fornire contesto l'una rispetto all'altra e permettere quindi una comprensione della query dell'utente del suo contesto e dell'intento di ricerca che ci sta dietro un aspetto fondamentale della scrittura per un motore di ricerca di questo tipo è la semplicità è una strutturazione delle frasi che eviti soprattutto le subordinate di fatto i vecchi indici di leggibilità che si usavano anche tanti anni fa per capire a quale potenziale target fosse destinato il nostro testo dal punto di vista proprio della scolarità necessaria per comprenderlo sono tornati giustamente di moda perché anche se utilizziamo non più questi indici ma gli algoritmi di comprensione linguistica perché ci serve determinare se un testo è leggibile non più solo da un utente che abbia la quinta elementare o la terza media o una laurea ma che sia comprensibile a un motore di ricerca quindi questo significa frasi brevi pochi incisi dichiarazioni molto esplicativo ogni volta che si introduce un'entità è bene fornirne il significato al punto che torna di nuovo utile poter avere sul proprio sito web delle pagine di vocabolario in cui tutte le entità principali che noi trattiamo rispetto alle quali vogliamo stabilire una nostra autorevolezza topicale quella che si chiama la topical authority è bene definirle anche in zone specifiche del nostro sito dal punto di vista invece della struttura dell'informazione dell'organizzazione dell'informazione significa di fatto andare a pensare al nostro sito come se fosse un knowledge graph cioè di fatto un knowledge graph sappiamo che è il database in forma di grafo che contiene la conoscenza nel caso del knowledge graph di google la conoscenza fattuale del mondo che google possiede nel caso di un nostro sito significa piuttosto organizzare la conoscenza in questo modo cioè per entità che hanno delle proprietà che possono essere entità a loro volta e che hanno delle relazioni fra loro che possiamo per esempio esprimere attraverso i link interni ok quindi è tutto finora è molto chiara la diciamo la la spiegazione la premessa che ci sta dietro stai fornendo sicuramente una panoramica molto interessante che consente alle persone che andranno a vedere il metodo di non pensare al tuo metodo che vai a utilizzare come comunque una cosa simile alle parole corgiate perché più o meno poi succede succede sempre questa cosa qui anche se ci spostiamo dalle parole all'entità le persone che si occupano di scrittura comunque sia il modus operandi è sempre quello dove cavolo devo infilare le cose mentre tu stai facendo un'ottima panoramica concettuale che ci consente di entrare con più comprensione in quello che è il metodo io sono un appassionato di questi temi e quando prima hai detto la conoscenza interna anche se brevemente insomma mi piace immaginare il wiki interno di ogni sito assolutamente e per questo io consiglio sempre il gestionale che si chiama wiki.js che è un gestionale sicuramente moderno so bene infatti che ti trovo allineato anche in Connectai questo progetto di wiki di wiki interno che acquista nuovamente una rilevanza una rilevanza importante perché permette di modellare come si dice qual è la conoscenza e l'informazione che il nostro sito vuole trasmettere o sulla quale vuole focalizzarsi per risultare risultare autorevole agli occhi di Google e hai anche ragione nel sottolineare che poi la traduzione in pratica del come mi servo dell'entità spesso si traduce in ne ho un elenco vediamo dove le piazzo nel testo ecco questo è un errore che che ci portiamo dietro anche a causa del funzionamento di alcuni plugin della SEO che vanno a fare banalissimi calcoli di presenza nel testo e al massimo in qualche caso di posizionamento nel testo ovviamente le cose sono ben più complesse ben più complesse di così vedremo di capirle meglio e dico solo per chiudere che all'interno della SEO per quanto riguarda l'adozione dello schema markup c'è un certo dibattito in corso ci sono molti SEO che hanno un approccio conservativo cioè utilizzo solamente quegli schema che Google mi incentiva a utilizzare premiandomi con la possibilità di ottenere di ottenere un rich result quindi un risultato picco sulla SERP che può mettermi in evidenza aumentare il CTR in qualche caso diminuirlo se ho già fornito la risposta che l'utente cercava però è vero che Google è riuscita a far esplodere l'adozione di schema proprio dando questi incentivi però la ragione di fondo dovrebbe essere molto più ampia e dovrebbe essere proprio quella di utilizzare schema come modello per la definizione dei propri contenuti e la definizione chiara degli argomenti di cui parliamo e della tipologia di blocchi di contenuto che utilizziamo nella pagina immagina un blocco FAQ rispetto a un blocco body di un articolo o rispetto a un blocco video di un video che embediamo dentro un articolo quindi schema ci permette una definizione del contenuto in pagina su un doppio livello quello dei cosiddetti tipi di contenuto e quello invece che includendo in schema nel markup le entità va a definirne proprio la semanticità direi che possiamo passare alla condivisione schermo sì fai condividi pure sì a questo proposito io aggiungo che infatti sto da tanto tempo poi anche nel libro andrò a premere su un concetto molto importante per quanto riguarda comunque schema.org o qualsiasi altra tipologia di dato strutturato ovvero che è molto importante porsi come la fonte delle informazioni e quindi andare al di là del motore di ricerca perché sarà tutta internet che diventerà così oggi lo stiamo dando a google ma i dati strutturati o qualsiasi altro dato strutturato io dico sempre attenzione a chiamare i dati strutturati e dire che sono solo quelli il dato è strutturato nel momento in cui noi riusciamo a strutturare il dato e riusciamo a darlo a internet non a google quello secondo me sarà un grandissimo passaggio proprio di mentalità di chi si mette a progettare un'architettura informativa o un database di conoscenza assolutamente anticipi una questione rilevantissima che farò vedere anche nella pratica i dati strutturati rappresentano l'impalcatura della rete stessa perché sono liberamente distribuiti anzi andrebbero prodotti e pubblicati in un modo specifico per soddisfare alcune alcuni standard del web semantico la semantic search non è web semantico per quanto da questa riprenda alcuni concetti anche alcuni standard tecnologici però è fondamentale per l'appunto che le informazioni che noi forniamo le mettiamo a disposizione della rete e delle macchine che le possono leggere e che possono anche pensiamo all'ambito scientifico quando pubblichiamo al mondo migliaia se non milioni di articoli se abbiamo a disposizione dei dati strutturati veri ci sono motori intelligenti non c'entra google motori specifici che possono andare a mettere in relazione fra loro studi diversi scovando delle relazioni magari sfuggite anche al ricercatore e questo infatti l'ambito scientifico della ricerca scientifica è quello di maggiore applicazione poi degli standard del semantic web perché permette davvero di fare un salto paradigmatico anche nel far emergere delle connessioni che a un umano non è non è facile non è possibile o ci vuole molto tempo o ci vuole molto tempo esattamente allora credo di aver condiviso lo schermo io lo vedo io lo vedo ok ora lo mostro così vedo vediamo la tua vediamo il tuo schermo ok ci siamo partirei giusto analizzerò sì puoi cliccare sul nascondi solo così ti toglie la barra vai ok allora mostrerò due siti intanto quello della mia agenzia e poi quello di un cliente che è Coppitalia e faccio vedere i dati strutturati e come e come ho realizzato la pubblicazione di questi dati e l'iniezione dell'entità in questi dati ok innanzitutto il primo test che eseguiamo sui dati strutturati una volta in questo caso sono già stati creati è il test è il test di Google il test di Google va fatto ma va allo stesso tempo preso con le pinze perché è un validatore della possibilità di essere eleggibili per ricevere per l'appunto i rich result cioè Google ci dice se stiamo alle sue specifiche regole per ottenere i rich result per esempio le FIQ i video le recensioni le star delle recensioni eccetera e quindi Google segnala come errori o avvisi anche alcuni che errori o avvisi non sono perché rispettano lo standard di schema ma manca magari quella proprietà che Google che Google vuole per per riconoscerci eventualmente rich result l'altro strumento di validazione è adesso quello ufficiale ed è il validator di schema di schema org guardiamolo sulla stessa pagina web page la prima cosa che notiamo ci tornerò nel dettaglio mostrandolo però in una forma molto diversa che è più intellegibile la prima cosa che vediamo innanzitutto è che è piuttosto che è piuttosto lungo e c'è una certa articolazione che prevede l'uso dei cosiddetti ID anche di questi spiegherò il significato proprio mostrandoli graficamente un'altra cosa che adesso rapidamente voglio fare notare è che c'è un utilizzo di alcune property che sono davvero sottutilizzate se si fa ed è uscito anche quest'anno uno studio degli schema e delle property più usate vediamo che about e mentions e insieme ad esse same as sono davvero poco utilizzate eppure si tratta proprio delle property di schema che ci permettono di iniettare all'interno dello schema le nostre entità about è una proprietà che definisce come dice il nome qual è l'argomento principale di cui la nostra pagina il nostro articolo si occupa e dovrebbe costituire all'incirca il 70-80% del contenuto a cui ci stiamo riferendo mentre mentions serve a introdurre i cosiddetti sub subtopic che però abbiano essi stessi una dignità di trattazione nella nostra pagina cioè se io esamino la pagina e ho 100 entità non devo dichiarare a google che il mio articolo tratta di 100 argomenti perché alcuni saranno semplicemente nominati come vedete all'interno di mentions in questo caso io lo definisco come una cosa che è in assoluto la diciamo la property più più neutra o generica all'interno di schema e poi vado a fare un puntamento di quel concetto rispetto a una pagina in questo caso wikipedia che è riconosciuta che è riconosciuta da google come come autorevole e adesso faccio vedere un tool che è gratuito quindi poi fornirò il il link scusa scusa ho una domanda tu stai usando wordpress giusto come come utilizzo wordpress e allora intanto quello che consiglio è di non utilizzare i plugin per la generazione automatica dei dati strutturati più o meno tutti i plugin seo oggi da io a star rank mat hanno introdotto la generazione dei dati strutturati ma non permettono di modellarli a nostro piacimento cioè non permettono di fatto di scegliere le property che vogliamo per esempio io definisco qual è l'audience del mio sito posso definire quali sono le azioni che l'utente è invitato a compiere su una pagina per esempio l'azione di guardare il plugin che utilizzo in questo caso si chiama SNIP è un'alternativa che permette di fare le stesse cose e use schema se no wordlift ma viaggiamo su un livello più alto lo farò vedere sul sito di Coop e farò vedere perché wordlift è l'unico plugin che possiamo definire è nato e adatto al semantic web e non solo alla semantics ti faccio una domanda su SNIP alternative varie poi su wordlift quando lo vedrò te ne farò altre questi plug-in Swift è l'alternativa lavorano uschema si chiama come si chiama? uschema 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 lavorano a livello di singola pagina o hanno esattamente allora lavorano su due strati uno è quello del templating io mi creo i miei template posso definire utilizzando variabili interne al sito per esempio il blog title ma qualsiasi campo custom mi vado a creare e anche definire quel template su quali pagine va pubblicato posso creare anche molteplici template diversi per definire per esempio un articolo ma soprattutto in base alla categoria di appartenenza per esempio sul sito di cop che poi mostrerò abbiamo pagine scritte da medici e quindi le proprietà che utilizzo sono completamente diverse dalle pagine in cui è contenuta una ricetta per bambini grazie e quindi ho necessità di un plugin che mi permetta di fare il cosiddetto autoring diversificando anche a livello di singola pagina non solo io posso andare a definire come nel caso di mention ed about poi lo vedremo anche nel back end quali sono quelle proprietà che io voglio poter sovrascrivere e duplicare a livello di singola pagina cosicché avrò un template generale in cui magari è indicato l'autore è indicato il body dell'articolo è indicato il publisher che è sempre lo stesso che è l'organization che sta dietro il sito però poi mi costruisco una parte del template con about proprio per andare a iniettare l'entità e quindi su ciascuna pagina dopo che ho finito di scrivere il contenuto esattamente come vado a scrivere i metatag la metadescription il tag title eccetera vado anche a scrivere quelle quelle che sono le entità menzionate e le entità presenti se vediamo qui torno alla pagina in effetti il modifica pagina il back end così ci mostri anche come vi faccio vedere esattamente come sono stati inseriti esattamente faccio vedere come sono stati inseriti ora lasciamo completamente da parte l'architettura del sito che è molto particolare perché nelle pagine utilizza utilizza campi vado su web page home anzi probabilmente probabilmente è meglio farvi vedere un articolo direttamente perché utilizzo quel criterio che ti dicevo di lasciare prendiamo l'articolo che citavi sul knowledge graph modifica articolo e vediamo come avviene l'iniezione dell'entità intanto vado su snip a livello di pagina per l'appunto questi sono tutti i template che ho definito sul sito il template article è stato definito in modo tale da permettermi di modificare a livello di singola pagina alcune proprietà in particolare quelle che contengono entità tra l'altro ci tengo a dire che questo è un plugin insieme a you schema che è sincronizzato con tutto il vocabolario di schema quindi quando io vado a definire un template per esempio article e scelgo le proprietà che deve avere e andrò a mettere solamente lui mi mostrerà la possibilità di scegliere solo fra le proprietà effettivamente appartenenti al type article e questo rende l'outoring più semplice quindi lui ha oltre 800 proprietà che definiscono che definiscono le tipologie di proprietà di schema allora come vediamo io ho qua about e gli definisco tutta una serie di sottoproprietà name alternate name description e seymus l'articolo about knowledge graph knowledge graph è un'entità che ha dei corrispondenti in dei database aperti e quindi è un seymus la pagina di knowledge graph su wikipedia ma anche la entry di knowledge graph su wikidata un alternate name è grafo della conoscenza visto che siamo in italiano e questa è una descrizione ok tutti questi dati naturalmente tutte queste informazioni possono essere un po' lunghe da ricavare e qui è dove ci verrà in aiuto l'app che ho scritto che come vedremo mi tira fuori proprio l'entità di cui tratta il mio articolo con il name il seymus uno scrape automatico della descrizione da wikipedia allo stesso modo author non ci interessa perché è un campo che non varia mentions io parlo nell'articolo di search engine optimization alternate name name ottimizzazione per i motori di ricerca la description rimando a wikipedia e a wikidata avrei potuto rimandare anche ad altri database aperti per esempio di wikipedia che è molto utilizzato in ambito medico e quindi nel sito nel sito di copp che è un sito pediatrico vado a utilizzare anche come database di riferimento di wikipedia e così via se io volessi aggiungere un'altra mentions non dovrei fare altro che cliccare sul più e mi si apre contiene le informazioni dell'ultimo campo dell'ultima mention inserita quindi devo devo svuotarle e poi vado nuovamente a compilarle le salvo e aggiorno l'articolo e questo mi permette per l'appunto di avere l'iniezione di queste di queste entità molto interessante assolutamente sì ed è proprio il ponte fra l'entity SEO e lo schema markup o il modo di utilizzare lo schema markup per se vuoi aiutare l'algoritmo di natural language understanding di google che al momento comunque non è né utilizzato pienamente né scepro da errori o da bias e io vado a dichiarargli immediatamente di cosa mi occupo poi sarà google a vedere bravo quello che tu dichiari è quello effettivamente di cui tu occupi e nel tempo prenderà più per buone le mie dichiarazioni immediate e questo è il motivo per cui nonostante abbia visto alcuni SEO e corsi di area grey utilizzare i dati strutturati per fare keyword staffing è una pratica che sconsiglio nel modo più assoluto perché siamo in una fase in cui google è in addestramento e può anche essere credulone può fare pure un po' di differenza vedevo per esempio dei SEO locali che inventano dei premi utilizzando le keyword che avrebbe vinto il loro idraulico a me sembra veramente io poi amo davvero schema sono nella community quindi nella mailing list in cui si discute si prova a proporre cosa servirebbe ancora a modellare quali proprietà mancano vedere quest'uso di schema e poi cavolo noi SEO abbiamo spesso rovinato spesso rovinato delle delle funzioni o possibilità che le tecnologie google offrivano quindi cerchiamo di non fare questo con schema che è veramente sarebbe rovinoso andiamo a vedere che succede anzi faccio vedere in tempo reale la home page del mio sito io clicco su classi schema questo è semplicemente un un javascript inserito nella barra nella barra e lui mi fa vedere mi apre direttamente quest'altro validator di schema ho la possibilità di vederlo in forma grafica vado ad aggiustare un po' la distanza dei link per renderlo più leggibile e vedremo che di fatto rappresenta questo stesso schema ma in un modo che lo rende una sorta di narrazione complessa e completa proprio perché io ho messo i miei schema in relazione fra loro utilizzando un'altra property fondamentale che è id id è una property che viene da java e serve a definire i nodi nel nostro caso di un grafo quindi io potrei dire che la mia web page contiene delle fiq contiene delle fiq e queste fiq sono parte di una pagina che io definisco con questo certo id che è article makoto questo fa sì che le mie fiq il mio video il publisher che ha creato la pagina l'autore siano tutti connessi proviamo a leggere proviamo a leggere partendo da un punto che considero centrale eravamo in home page e stiamo parlando di un local business perché di fatto è un'agenzia che ha anche una base locale questo local business avrà degli orari di apertura vediamo che ce ne sono vari avrà delle recensioni da parte di utenti e ancora queste recensioni avranno un rating aggregato saranno state fatte da una determinata persona e questa persona lavora per una certa organizzazione e ancora altre review poi abbiamo delle geocoordinate per questo local business un rating aggregato questi sono ancora quelli legati agli autori ancora gli opening hour abbiamo ovviamente un logo in forma di image object ma allo stesso tempo vediamo che questa local business è collegato a un'organizzazione che lo esprime perché è una sussidiaria di un'organizzazione più ampia che porta lo stesso nome e che ha delle sotto organizzazioni che ha dei fondatori che ha ancora dei contact point a degli employee degli impiegati e poi ancora questa è l'organizzazione della pagina tipo chi siamo o della zona di fatto è un chi siamo e quindi local business è legato all'organization e a sua volta è legata a un video perché questo video è un video promozionale che ha per oggetto proprio l'organizzazione poi ha delle sue statistiche di interazione ed è collegato a un'azione possibile che è una view action già qua si pone una piccola si pone una piccola domanda come facciamo a collegare fra loro degli schema diversi a sapere cioè qual è la proprietà per mettere in relazione un video con un organization e ci aiuta questo tool gratuito schema path che significa appunto i percorsi che uniscono fra loro gli schema il nostro caso era un video non video gallery ma video object quindi un video embeddato o un video presente sul server in realtà non cambia niente lo voglio collegare a una organization order organization find path e lui mi dice i path avanti e indietro i percorsi quindi il video object può as property questa ha una property publisher e il publisher è l'organization oppure ha una property maintainer ed è l'organization oppure un video object riguarda come nel nostro caso un oggetto che è un organization quindi qua stiamo definendo il suo contenuto e non chi l'ha realizzato video object quindi può avere per publisher un organization può avere per about un organization dicevamo per publisher può avere per funder un finanziatore un organization può avere un autore che può essere un organization oppure questi sono i path reversal gli inversi quindi non più da video a organization ma da organization a video e quindi un organization può essere subject of di un video così come il video può essere about un organization un organization può essere subject of un video non importa utilizzare entrambi i percorsi avanti e indietro l'importante è leggerne uno e mettere per l'appunto in relazione mi torni indietro ho visto una cosa molto interessante organization as property giù giù main entity of the page è la quarta assolutamente assolutamente questo questo è fondamentale e andiamo a un concetto che ogni pagina dal punto di vista del content modeling cioè delle unità discrete di contenuto da cui è formata è formata da una serie di blocchi per l'appunto c'è del testo c'è un video c'è un fiq c'è un altro video c'è un fiq ci sono degli esempi dei progetti che nel nostro caso sono esempi del nostro lavoro qual è l'entità strutturale più importante all'interno di questa pagina a questa domanda rispondiamo proprio con la property main entity of page se io voglio dare a google maggiore rilevanza alle mie fiq o al mio video dirò che questo video è main entity of page web page e definisco la mia web page e tra l'altro ora se non vado errato prima ci hai mostrato che è possibile anche associare una action tu hai detto io mi aspetto sì sì abbiamo un'infinità di action esatto ci puoi mostrare le action disponibili? sì vediamolo direttamente su schema org di fatto teniamo sempre a mente che chi fa autoring di schema l'attività di base è aprire schema org da un lato e scrivere dall'altro esatto proprio perché abbiamo ormai un migliaio di property e non possiamo ricordarle tutte le actions vediamo se ti becco subito l'elenco una actions ovviamente di base è o action type vediamo mi interessa eccole qua alcune questi sono i tipi e poi ci sono i sottotipi abbiamo la search se per esempio la pagina contiene il motore per la ricerca sul sito abbiamo la collection o la contact action che è per esempio tutte quelle che mettiamo in pagina se c'è una form se c'è un chiamami abbiamo il trade action se è una pagina che ci permette appunto di fare trading abbiamo sono raccolte appunto per tipi ma poi vediamo quelle di assess possono essere possono essere più dure per esempio come ti dicevo la view action o la rate action se è una pagina in cui permettiamo view action in cui permettiamo di votare view action per l'appunto se c'è un video io vado sempre a dire che è possibile una view action o è anche possibile sì sostanzialmente ne abbiamo un elenco quelle che io utilizzo sono le search contact view rate comment direi che queste cinque soddisfano tutte le azioni ascolta quando in una pagina c'è un video ovviamente l'azione mi pare essere view action sì esattamente no no esattamente view action e quando c'è invece un articolo in un articolo noi potremmo io lo vedo un po' superfluo ma c'è anche una action di lettura ma io tendo tendenzialmente a lasciare solo la action di search o di comment se la pagina prevede te l'ho chiesto perché mi sta ricordando tanto le linee guida dei quality reader è lo scopo della pagina assolutamente si tratta dello scopo della pagina la action mentre la main entity identifica l'unità il blocco di contenuto se vogliamo blocco anche nel design contemporaneo il main content esattamente il main content allo stesso modo il purpose è definito dall'azione ok un'azione di lettura se è un articolo un'azione di view se è un video e così via quindi sì siamo assolutamente allineati ai quali di rete quindi abbiamo visto che con questa piccola app possiamo facilmente andare a capire in che modo per esempio il mio video qui non si legge perché se noti la freccina non so se è un po' piccolo provo a ingrandire è bidirezionale perché in questo caso si è voluto dire che l'organizzazione è subject of del video ma allo stesso tempo il video è about l'organizzazione ma vedremo anche che il video è la main entity di questa web page e la web page è about l'organizzazione perché siamo per l'appunto in una pagina about quindi come vedi attraverso i nodi che si definiscono che si definiscono con gli id se clicco poi vedo lo specifico pezzo di schema che mi esprime questo nodo se io lo schema web page vado ad assegnargli un id poi posso collegare video object attraverso l'id gli dirò che video object è main entity di una web page ma di quale web page quel template che ha per id quello che gli ho assegnato in questo modo come vedi sono possibili delle creazioni di schemi molto articolati e connessi fra loro tranne in questo caso l'FIQ che rispetto agli articoli è stata una mia dimenticanza non gli ho detto che l'FIQ è o la main entity ma non voglio perché la mia main entity dichiarata è il video oppure is part of questo blocco FIQ is part of web page e quindi lo avrei connesso a questo attraverso attraverso l'id se andassimo classi schema è tuo giusto? classi schema no 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 classi schema è un'app gratuita ora ti farò vedere la mia è un'app gratuita di validazione e visualizzazione e visualizzazione ha tante funzioni in effetti ma questa della visualizzazione straordinaria è l'unica app che ce l'ha ed è totalmente in un video secondo me prenderai diciamo come interesse sia Alessio Pomaro che se lo ascolterai sia secondo me Martino Mosna perché quando vede queste cose impazzisce ah sì lui per i grafi mi pare che sia appassionato se non ricordo male i suoi i suoi interessi come me gli piacciono i grafi vorrei fare vedere intanto questa app che utilizzo andiamo su un articolo andiamo di nuovo sull'articolo del del knowledge graph così vediamo classi eccolo qua vediamo due diverse cose intanto come classi schema avrebbe dove sei classi schema avrebbe letto le mie le mie entità e poi chiudiamo un po' di pagine come utilizziamo la mia applicazione per iniettare l'entità nell'articolo avevamo visto giusto prima che appunto avevo inserito attraverso snip l'entità ma facciamo che io abbia solo scritto l'articolo e non sappia effettivamente quali sono le entità che google riconosce nell'articolo vado a prendere l'url di pagina vado su questa che è la mia app che si chiama the entity swiss knife il coltellino svizzero dell'entità è possibile lavorare su url o su testi ed è possibile utilizzare le api o di google nlp o di text razor in questo caso preferisco text razor semplicemente per velocità alla funzione che hanno è assolutamente analogia questa app è gratuita tra poco lascerò la versione in cui semplicemente ognuno come scritto qua dovrà inserire le sue api le api sono gratuite e per l'uso personale diciamo soddisfano che ne so 500 chiamate al giorno di text razor quindi per l'uso personale è molto più che sufficiente io sarò costretto perché la sto un po' promuovendo e mi stanno cominciando a diventare un costo e quindi quello non è possibile submit dopo che ho inserito l'url e vediamo che lui mi estrae tutte le entità mi estrae tutte le entità mi dice lasciamo da parte la categoria di DBpedia perché sono veramente poco bravi anche Google a capire esattamente la categoria a cui appartiene un'entità però me l'estrae e mi dice che io sto parlando di World Wide Web di Wikidata di LinkedIn di Gmail eccetera eccetera mi dice qual è l'ID di Wikidata mi dice qual è la frequenza con cui è presente quell'entità nel testo alle volte vediamo zero perché il nome è stato come si dice normalizzato le entità sono language agnostic cioè sono la stessa cosa indipendentemente dalla lingua con cui la esprimo per cui la mia entità è SEO ottimizzazione ottimizzazione per i motori di ricerca è la stessa entità se non che all'interno del mio testo io ho scritto SEO non ho scritto ottimizzazione per i motori di ricerca quindi la frequenza qui viene vista come zero perché faccio un semplice calcolo linguistico e poi mi vengono date la rilevanza e il confidence score se io scrivo un articolo su un argomento che secondo me deve essere la posta elettronica e poi mi rendo conto che la rilevanza riconosciuta da Google è molto bassa per posta elettronica c'è un problema quindi dovrei tornare sul testo rielaborarlo magari facendo un incipit direttamente sulla posta elettronica o dedicando dell'FIQ alla posta elettronica fin tanto che non riconosco che Google vede come principale o una delle principali entità rilevanti proprio posta elettronica ma se io già so quali entità voglio dichiarare a Google o voglio semplicemente ispirarmi da qui qual entità voglio utilizzare come about come about voglio utilizzare vabbè in questo caso davvero non è importante web semantico e wikidata e blog come mention no solo le due property che vedevamo prima e volevamo inserire a questo punto vado a fare il download delle mention e il download del vabbè apro giusto le mention dimmi se vedi ancora lo schermo e ho già il mio pezzo di schema dove dico appunto che il name è wikidata la descrizione è stata estratta screpata da wikipedia stesso e i 6 mas sono stati inseriti correttamente quindi tornando alla pagina che vedevamo prima se vado a fare la modifica articolo e mi sono andato a preparare come abbiamo visto prima un template che mi permette che mi permette di inserire direttamente about e mentions io non avrei fatto altro che copia e incollarle copia e incollarle da ora è un po' lento ad aprirsi ma l'avevamo visto prima insomma e quindi eccoli qua e mi vado a prendere il mio name lo proprio da qui lo incollo se so farlo ho anche un modo di iniettare direttamente via javascript questo pezzo di schema all'interno all'interno della pagina ma in ogni caso ho tutte le informazioni che mi servono se non volessi andare ad utilizzare se non volessi andare ad utilizzare la informazione direttamente estratta come descrizione da wikipedia potrei comunque velocizzare potrei o scriverne una a mano soprattutto se faccio un vocabolario che poi pubblico all'interno del sito e quindi ci tengo a definire le mie entità in modo in modo personale con il mio sito oppure posso andare per esempio utilizzare lo faccio vedere qui del tutto rapidamente e solo a scopo dimostrativo perché ho creato dei template di generazione automatica del testo ovviamente indifferente quale tool vado a utilizzare io ho il mio template per esempio per le definizioni tecniche mettiamo l'ultimo articolo che ho scritto era sul personal branding sul personal branding voglio semplicemente una definizione una definizione di personal branding e se non decide di farmi fare una figuraccia anche perché gli ho dato un background di altro tipo perché è una pagina di lavoro il personal branding è la pratica di creare un'immagine pubblica per se stessi attraverso varie forme di media come siti web social network i marchi sono creati da aziende organizzazioni insomma posso farmela generare più di una volta posso usarne un pezzo posso usarla tutta in generale si edita io dico sempre facciamo attenzione a capire che si tratta di scrittura assistita e non di premere un bottone e avere qualcuno che scrive al nostro posto sto quasi per chiudere direi praticamente solo due cose volevo mostrare questo tool anzi no torniamo un attimo alla mia app come dicevamo la posso usare anche come come sandbox per i miei copi per esempio inserisco il testo invece dell'url o un copy o anche un copy di un adv e l'analizzo per vedere se google comprende realmente quali sono le entità principali all'interno di quel messaggio o per esempio per le pagine per le pagine di biografia la mia pagina biografica è stata ottimizzata utilizzando questo tool proprio affinché google google capisse che mestiere faccio oggi e non e non un tempo perché sono sono stato anche scrittore quindi ha iniziato a crearmi un knowledge panel un knowledge panel in effetti accordato a quello che io oggi oggi sono è facile e tu questo knowledge panel di google lo hai influenzato tramite la tua pagina di biografia assolutamente sì e i dati strutturati presenti in quella pagina al punto che la descrizione presente sul mio vediamo di aprirla in un altro browser la descrizione sul mio knowledge panel è triggerata eccolo qui massimiliano geraci uno specialista in content marketing strategico seo e semantic search linkedin cosa che di solito non non ritrovate nei nei knowledge graph di un autore cioè di uno scrittore ovviamente resta anche la verticale del knowledge panel dei libri avendo io scritto dei libri ma mentre un tempo avevo non avevo per niente queste informazioni ma solo quelle che appartengono alla verticale degli scrittori creando creando una pagina giusta su wikidata utilizzandola come se i mas nei miei dati strutturati della mia about page e scrivendo una biografia che avesse un incipit inequivocabile per google passato sembra un testo ovviamente è un testo molto banale ma vi assicuro che passare una biografia le prime dieci righe di una biografia al setaccio di google nlp vuol dire a volte doverlo doverla riscrivere e fare un fine tuning tante e tante volte fin quando fin quanto google non comprenda il nostro mondo io ho avuto proprio un esempio un esempio assolutamente concreto questo è l'unico tool al mondo cali cube e io sono diciamo indicato da loro come uno degli esperti a cui rimandano per utilizzare questo tool mi fa anche un monitoraggio della mia brand SERP ora non andiamo indietro prima di dicembre ma a novembre prima che facessi la mia nuova pagina biografica e la mia nuova ecco vedi mi ha visto per un periodo come traduttivo ci fai uno zoom piccolino sì questa è sono le evoluzioni della mia brand SERP la mia brand SERP è quindi quella che appare quando si digita il nome del marchio di una persona e lui mi fa vedere qual è il grado di controllo che ne ho il controllo è maggiore quanto più le property sono mie neanche i social ovviamente sono considerati a controllo totale e quindi quindi mi fa vedere sia come si evolve il mio knowledge panel nel tempo per esempio il knowledge panel potrei vedere che le caratteristiche presenti nel mio knowledge graph nel mio knowledge graph sono variate variate nel tempo perché google va di fatto prendiamo vediamo quelle storiche questo è proprio il knowledge panel come visto qua è come visto in città diverse perché a volte lo faccio internazionale verifico che cambia che cambia la lingua fa una traduzione automatica una traduzione automatica google se traccio il mio knowledge panel storico è questo il knowledge graph invece eccolo qui e qui sono indicati i giorni di aggiornamento e un sensor come quello che vale per le SERP guarda la volatility del knowledge graph e qui se vedi quando ho iniziato il mio lavoro di personal branding questa è l'evoluzione di tutte le proprietà che mi riguardano e che google conosce e che mette in evidenza in base alla query perché lì ho semplicemente scritto massimiliano geraci se scrivo quali sono i libri di massimiliano geraci il knowledge panel cambia e queste sono tutte le property e lo score che mi viene assegnato via via fino da settembre a marzo quindi come vediamo dati strutturati ed entità permettono di influenzare il knowledge panel in maniera decisiva certo l'altro l'altro elemento importante è wikidata wikidata non ha le maglie strette di vediamo wikidata di wikipedia quindi non ci sono i criteri di notability che richiede wikipedia è abbastanza facile per chiunque definire la propria o le proprie entità hai sbagliato a scrivere certo manca qualcosa digital marketer e writer io ho le mie foto che pubblico su wikimedia così lui su wikicommons scusa lui automaticamente me le riconosce così come qui sei anche il sito internet tuo no? assolutamente gli dico il sito internet gli identifier ufficiali ho un identifier su crunchbase un identifier su facebook nel mio caso un identifier anche una volta che lo si ottiene si aggiorna la pagina wikidata aggiungendo anche l'identifier sul knowledge panel google scholar perché io comunque vengo da dieci anni di accademia e quindi ho pubblicazioni accademiche linkedin quando ho aggiunto questo automaticamente la descrizione del mio knowledge panel è stata presa non dalla pagina del mio editore o di amazon ma da linkedin ok il twitter username crunchbase diciamo nel nostro mondo per chi fa business è una delle fonti di informazioni più utilizzate da google considerate più attendibili nell'ambito generalista è wikipedia e wikidata però abbiamo tutta una serie di sottodatabase internet movie database database della cia i database geografici e crunchbase per il mondo del business quindi di fatto creare una propria pagina wikidata una propria entry su wikidata che è un database creare una propria biografia ottimizzata utilizzando google nlp api per fargli leggere per fargli leggere un testo e iniettare le entità nella mia about page se io sono un'entità su wikidata quando scrivo la mia about page e vado a mettere about quale entità sarà la mia stessa entità su wikidata quindi io connetto tramite l'id una pagina sul mio sito con una pagina su un altro sito ok quindi è ufficiale diciamo in questo modo è ufficiale e quindi google dice bene sei tu quel massimiliano geraci io ho un omonimo attore un omonimo produttore di olio troppi omonimi per quanto mi piace ma lavorando sodo a parte il blocco fotografico in cui veniamo mischiati giustamente dico google non ha più confusione su il mio nome in associazione per esempio ad alcune ad alcune keyword particolari faccio vedere un'ultima cosa che è il sito di questo mio cliente vedremo veramente in modo molto rapido è un sito pediatrico quindi ho definito tutto e che è stato abbattuto ai tempi nel 2020 nell'agosto del 2020 dal medical update cosa ho fatto per ritirarlo su nonostante non sia cambiato nulla dal punto di vista formale io sono andato i testi sono davvero scritti tutti da medici alcuni anche docenti universitari ho creato su wikidata tutte le entità dei medici tutte le entità dei libri che hanno scritto le entità degli articoli scientifici principali e tutte queste le ho dichiarate all'interno di uno schema che è medical web page che è uno schema particolare diciamo utilizzo sia article per poter finire in news come sai in news ci vanno solo gli article per l'appunto o i parenti di article ma non blog posting e in più ho definito che quest'article è la main entity di una medical web page che ha non solo un autore che è medico ma anche dei supervisori che sono a loro volta dei medici quindi quando faccio le connessioni tra entità dirò che ci occupiamo sia di sviluppo linguistico sia lo metto in relazione ai suoi autori un'ultima cosa e qui siamo nell'ambito di word lift per una metà word lift fa quello che io ho fatto manualmente con snip e l'utilizzo della mia app per l'estrazione delle entità quindi in questo momento sta facendo un'estrazione di entità da questo testo e me le illumina e io potrei andare queste sono quelle già selezionate nell'articolo si parla di l'allazione sono mention si mentionano si mentionano queste entità l'allazione linguaggio linguaggio del corpo comunicazione non verbale avrei potuto cliccare su bambino e lui mi avrebbe acceso anche bambino ma non solo quindi in questo caso stiamo usando la proprietà say must dello schema markup che dice a google che per esempio l'allazione è la stessa entità di cui si parla in quella pagina wikipedia dedicata all'allazione ma con word lift posso fare ancora di più ed è per questo che dico che siamo realmente nel semantic web perché io posso utilizzare un altro say must che non ha più a che fare con schema markup è il say must di un linguaggio che si chiama owl o wl che sta per ontology web language e che mi mette in connessione non solo per far capire a google di cosa parlo mi mette in connessione con il database wikidata non solo per dire a google guarda che sto parlando anch'io di questo argomento ma proprio per rendere le mie informazioni disponibili e collegate in quello che si chiama linked open data cloud eccolo qui ossia questo è puro semantic web che vuol dire noi dobbiamo pubblicare i nostri contenuti con un linguaggio di markup specifico che li renda anche finanche interoperabili cioè come dicevo all'inizio nel caso di pubblicazioni scientifiche se io ho un tool di analisi o un motore di ricerca posso rendere interscambiabili le informazioni se le collego attraverso i d wiki e word lift fa parte del linked open data cloud quindi le informazioni i dati strutturati che io genero attraverso word lift e che hanno questo aspetto questo è proprio quando iniziano a parlare i bambini l'articolo di poco fa word lift genera questa entry in questo suo database personale che è automaticamente interrelata al linked open data cloud quindi io vado a pubblicare il mio schema markup non solo sulla mia pagina non solo lo relaziono ai database pubblici ma faccio un vero collegamento questo se utilizzo word lift ed è l'unico l'unico plug in ma è anche un sas che funziona con siti non solo non solo wordpress che mi permette per l'appunto di interconnettermi al linked open data cloud ok ma questa interconnessione è la chi come tu puoi farla anche con un sito tuo o è word lift questo è il mio sito ah se non ho word lift si potrei farla ma andando è l'unico diciamo tool che io conosca che va a fare questa sorta di pubblicazione e poi è lui un database che è riconosciuto e fa parte del linked open data cloud ok io se non ho un database che a un certo punto ha le caratteristiche che deve essere esattamente quindi è un modo anche di passando per word lift di avere automaticamente un'interconnessione con questo mondo dove dentro ci sono tutti wikipedia wikidata di wikipedia poi ci si può cliccare e vedere in dettaglio chi mette a disposizione un sacco di università ovviamente e anche la tipologia di database geografico linguistico governativo governativo eccetera direi che questo è un po' un po' il quadro il quadro generale ovviamente col medical update poi hai recuperato grazie ho assolutamente recuperato al cento per cento dopo aver fatto questo lavoro appunto di e a t quindi di stabilire una mia autorevolezza negli occhi di google l'autorevolezza dei miei autori e di farlo proprio attraverso dati strutturati ed entità messi assieme con il sistema di injection quindi attraverso le property about e mention che abbiamo visto che abbiamo visto finora ti ho forse verso nel senso vorrei un attimo recuperare la tua camera ti ho tolto lo schermo ti faccio un'ultima domanda prima hai detto hai affermato che dentro google news ci entri se hai article no? hai notato sì ovviamente per la maggior parte così google richiede di fare per lo meno news article o article esatto ma senti hai notato qualcosa di simile su discover hai fatto mai un'analisi su sì ho fatto un'analisi proprio su quel sito che è in news ed è anche in discover posso dirti che ciò che è marcato con i dati strutturati medical web page non entra in discover questo per le mie guida evidentemente nonostante non lo specificano dicono che ci sono dei topic che non vogliono far entrare ti posso dire che medical page è uno di quelli nel senso che monitoro moltissimi competitor anche di ambiti medici diversi certo eh il semplice article non mi dà gli stessi vantaggi di avere una pagina article che abbia dentro anche un altro schema generalmente video eh è particolarmente elettivo per l'entrata in discover da quello che io osservo su quel sito eh sì sì non voglio dare cioè stai dicendo che con due che due schema markup ti capita frequentemente sto dicendo che se c'è uno schema markup aggiuntivo e quindi un contenuto aggiuntivo un video un fiq e io li dichiaro in pagina ho più chance di entrare in discover ok con i miei articoli che entrano in discover non sono mai articoli con un solo schema sopra e faccio dei test anche su quelli di ricette che mi entrano sono quelli come categorie che mi entrano più frequentemente quindi c'è uno schema recipe ma se tolgo lo schema article non mi entrano in discover se metto un article senza recipe con lo stesso contenuto esplicito in front end non mi entra in discover se dichiaro entrambi gli schema entro in discover ok ho la chance di entrare in discover certo certo e l'altro elemento che pure non dichiaro con schema che mi alza molto le chance di entrare in discover ma questo lo sai senz'altro meglio di me è avere una web story una google web story sull'articolo che vorrei far entrare in discover ti va a più diciamo che anche articoli vecchi che non mi erano mai entrati se gli inserisco un riassunto in forma non un riassunto comunque faccio una web story eh tematicamente ovviamente e la embeddo e la embeddo quell'articolo poi mi è entrato in discover ho aggiunto una seconda web story è entrato una seconda volta in discover a distanza di un mese e mezzo quando ho aggiunto ok io avevo avevo fatto un test che andava sulle doppie entità sì nel titolo e nel semplicemente per una questione assolutamente sì questo te lo do assolutamente come base nel senso che tutti i miei articoli hanno sempre entità espresse e quindi dichiarate nello schema e non hanno mai una sola entità in effetti potrei condurre un testo se dichiaro una sola entità su una tipologia di articolo categoria che so che passa in discover se non ci entra più farò questo test ma anch'io considero basilare avere più di un'entità e ti suggerirei anche di utilizzare queste tecniche di dichiarare esplicitamente le entità della tua pagina e vedere se questo ti impatta su discover cioè iniettare quelle entità che tu hai scelto anche nei dati strutturati e vedere se questo forza forza discover va bene massimiliano che dire ti ringrazio davvero davvero tanto per aver condiviso con noi questa parte del tuo lavoro è stata è stata più di un'oretta molto interessante sì e seguirti nei tuoi ragionamenti anche perché la tua la cosa bella che mi piace tanto di te e ora che ti conosco l'ho confermato perché fino ad ora non ti avevo mai sentito parlare è la tua io la chiamo la tua unione di più mondi tu sei scrittore esatto e sembra molto strano perché sei hai una competenza tecnica molto elevata ma hai una competenza nella scrittura anche molto elevata infatti poi nella tua biografia anche su connect c'è tutta la parte che ti interessa al di là di quello che hai scritto che si trova facilmente su google anche tutta la parte di semiotica assolutamente i dati strutturati per me sono stato una gioia infinita perché ho recuperato tutti i miei studi di semiotica e linguistica a me piace appunto interconnettere ti ringrazio molto di questo spazio perché sono temi davvero ai quali ai quali tengo e ti fornirò i link perché assolutamente mi manca di condividere quell'applicazione di permettere di usarla tra l'altro la sto evolvendo in modo che tu abbia a disposizione una search non debba mettere un url ti dà i primi venti risultati e tu gli dici mi dici l'entità condivise fra questi cinque articoli sai cosa mi piacerebbe fare mi è venuto in mente ora mentre parliamo questa una live con un sito internet solo uno lo scegliamo e noi prendiamo tutti i professionisti e le professioniste e ognuno di noi ha tipo 15 minuti per fare un'analisi del sito sul suo punto di vista sarebbe bellissimo tu prendi dal tuo punto di vista e gli mostri dove sta sbagliando quei dati strutturati l'altra persona sarebbe una roba bello molto bello anche perché con gli audit vedo che tra noi i SEO abbiamo veramente punti di vista diverse e anche come dire capacità e allenamento nell'individuare cose diverse problematiche diverse un occhio diverso quindi è veramente una bella idea quella di unire dai ma non uno due tre persone tante no no tante tante e dire ognuno la sua su più strati è veramente bello il sito è fare una roba dai lo faccio lo organizzo smontarglielo pezzo pezzo dai se ti va ci sono va bene grazie grazie mille grazie ancora Giorgio sì io tanto in descrizione ci sarà tutto dai sì ti scrivo allora tra oggi e domani ti mando i link grazie a tutti grazie a tutti